Dopo dieci anni arriva la parola fine sul lungo contenzioso amministrativo relativo all'impianto di compostaggio della Prometeo 2000 nel territorio di Grumo. A chiudere l'avvertenza il Consiglio di Stato che ha definitivamente respinto il ricorso del Comune di Grumo Appula che chiedeva l'annullamento degli atti della provincia di Bari con i quali fu autorizzata l'opera nel lontano 2000. La realizzazione dell'impianto, la cosiddetta astronave, fu bloccata per oltre un decennio da una complessa e lunghissima vicenda giudiziaria su più fronti alimentata dall'amministrazione comunale. Nel processo si sono costituite le società Terza Ampuglia S.P.A. e Prometeo 2000 S.R.L. difese dall'avvocato Luigi Paccione. La sentenza del Consiglio di Stato dell'11 dicembre scorso, oltre a dare ragione agli imprenditori delle foglie ai quali fanno capo le due società, ha condannato il Comune di Grumo a pagare le spese di giudizio e una sanzione pecuniaria a favore delle imprese. Il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto che l'autorizzazione della provincia alla realizzazione o gestione dell'impianto di smaltimento rifiuti aveva valenza di pubblica utilità. Già nel 2004 il TAR di Bari aveva stabilito che la procedura di approvazione dell'impianto era legittima, ma il Comune di Grumo aveva deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato. Il processo penale per gli stessi fatti si è invece concluso a giugno scorso con la sentenza della Corte d'Appello di Bari che giudicando sul rinvio della Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità della posizione degli imputati, restituendo ai delle foglie l'area e gli impianti già costruiti. Ora quindi, dopo la decisione del Consiglio di Stato, potranno partire le procedure per l'entrata in funzione del mega impianto in grado di trattare fino a 800 tonnellate al giorno di rifiuti organici da trasformare in fertilizzante per l'agricoltura. Il sindaco di Grumo, Michele Datri, interpellato da Punto TV, ha detto che l'amministrazione comunale non può che accettare la sentenza, rimarcando l'atteggiamento prudente avuto in questi anni, nonostante una parte dell'opposizione chiedesse con forza l'abbattimento della struttura. Un'eventualità ha spiegato il primo cittadino che alla luce della decisione del Consiglio di Stato avrebbe comportato enormi costi a carico della collettività.